la senegalese Medina e l'italiana Teresa io non avrei mai immaginato che ci fosse un capovolgimento delle alleanze come durante la guerra dei sette anni 1756-1763 la guerra dei sette anni che nei libri di storia è caratterizzata per il capovolgimento delle alleanze e che io in qualche video ho definito la vera prima guerra mondiale 1756-1763 si chiama guerra dei sette anni andate a vedere voi sul web la guerra dei sette anni e capirete perché io Serafino Massoni l'ho definita la vera prima guerra mondiale la prima guerra mondiale beh capovolgimento delle alleanze ma che cosa c'entra? la bella Medina senegalese e la bella italiana Teresa Teresa ma io la notizia l'ho letta e ve la metto come l'ignor di questo video io sono Serafino Massoni vedete? sono l'autore di quest'opera per chi non mi conosce sono questo qua io in questa foto vedete? io sono in questa foto mi si vede bene in questa foto bene allora che cosa succede? che la bella senegalese del Senegal in Africa senegalese Medina ha sposato un italiano pensate per voi Senegal la bella oi Senegal siamo nell'Africa nera la bella senegalese Medina Medina ha sposato un italiano e la bella italiana Teresa invece è andata a sposare un marocchino è andata a sposare un marocchino e qua i conti non mi tornano più non mi tornano più perché io qua in quest'opera La Stifra del Serpente è un'opera storico-mitologica ho parlato della fessurina delle donne e dello sterio dell'uomo e dello sterio dell'uomo uno pensa che una bella girl senegalese del Senegal in questo caso si chiama Medina si vede pure magari che è islamica questa senegalese Medina è venuta in Italia e ha sposato un italiano un ariano indurobeo razzaabula invece una italiana che si chiama Teresa Teresa è andata in Marocco e ha sposato un marocchino un marocchino e questa italiana probabilmente è cristiana cattolica Teresa e il marocchino probabilmente è islamico ma a parte questo c'è la questione della fessurina dell'ostero e non capisco come mai ciò sia avvenuto ciò sia avvenuto va bene non capisco proprio non capisco dopo che avrete letto la notizia che io vi lascio nel riassunto di questo video relativamente alla bella senegalese Medina che ha sposato un italiano e alla bella italiana Teresa che ha sposato un marocchino fatemi sapete voi com'è la situazione perché qua non c'è più religione capito non c'è più religione e io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica e per chi non mi conosce io sono questo qua vedete in questa foto ok cari amici fatemi sapere voi com'è la situazione capito perché io ancora non ho le idee chiare a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti